Diversi sono i paesi dell'Unione Europea destinatari del Recovery Fund. Bruxelles traccerà il percorso che gli stati membri dovranno seguire per uscire dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19. Un'azione di concerto tra commissione e governi. Ognuno dovrà presentare il proprio piano di rilancio. Le priorità saranno economia verde e digitale. Il comune di Capaccio Pestum, guidato dal sindaco Franco Alfieri, ha già presentato alla regione campagna a diversi progetti da finanziare. Sul Recovery Fund già abbiamo programmato e abbiamo inviato alla regione campagna progetti come la messa in sicurezza del sele per 22 milioni di euro, la rete idrica e fognante per 27 milioni di euro, il depuratore 9 milioni di euro. Quindi queste sono le cose che ci aspettiamo perché alcune già sono ormai finanziate. Il sottopasso ferroviario, il lungomare per 6 milioni di euro, il cineteatro, il castello dobbiamo finanziare l'altro giorno è giunto il parere favorevole della sovrintendenza per 8 milioni di euro. Tante sono anche le opere pubbliche in cantiere per la città di Capaccio Pestum. Noi abbiamo un piano triennale di opere pubbliche che qualcuno chiama il libro dei sogni ma tu sai che io sono abituato a sognare e a realizzare però. Abbiamo un piano triennale di opere pubbliche di mezzo miliardo di euro, del quale molte già sono avviate, sono in fase di appalto e altre saranno appaltate. Un'attenzione particolare il sindaco Alfieri la ripone verso la riqualificazione del tabacchificio, struttura che dovrà diventare un polo fieristico e al lavoro che si sta programmando per l'area industriale e comprensoriale che servirà soprattutto per lo sbocco occupazionale. Ci approssimiamo ad acquisire al patrimonio e abbiamo già fatto un'istanza in tal senso che la curatera fa alimentare il tabacchificio perché deve diventare un polo fieristico e poi stiamo lavorando a una vera e propria area industriale comprensoriale, ci stiamo lavorando come Unione dei Comuni perché è entrata anche Ogliastro nell'Unione dei Comuni, quindi 222 ettari che dovranno essere urbanizzati e dovranno diventare una vera occasione per risolvere il problema del lavoro nel nostro territorio.